Sono passate da 20 a 30 le squadre USCA, le unità speciali di continuità assistenziale attive in tutta la Asda Toscana sud-est di queste. Cinque ad Arezzo, una in Valtiberina, un'altra in Casentino, tre in Valdichiana e quattro in Valdarno. Ogni team è composto da un infermiere ed un medico che ha il compito di seguire i pazienti positivi al Covid-19, sia sintomatici che asintomatici nei propri domicili, ma anche negli alberghi sanitari, nei posti letto di cure intermedie e nelle RSA. Un ruolo fondamentale per garantire un decorso casalingo della malattia e per evitare intasamenti nei pronto soccorsi e negli ospedali. Per migliorare questa azione è stato anche rafforzato il rapporto con il servizio 118. Due le azioni avviate. In caso di cittadino positivo che si rivolge al 118, se il triage telefonico non individua un'alta priorità e necessità di ricovero, la centrale stessa richiede subito l'intervento dell'USCA. I due team, USCA e 118, si confrontano in tempo reale per la presa in carico del paziente. In caso in cui invece il paziente sia già in carico all'USCA e necessiti di ricovero in ospedale, è il team ad avere la possibilità di richiedere immediatamente la consulenza del 118 che deciderà l'invio dell'automedica o dell'ambulanza. Gli operatori dell'USCA sono inoltre supportati dai medici e dagli infermieri della rete di pneumologia e territoriale delle malattie infettive e della geriatria. Uno degli elementi che rendono il lavoro di queste unità così importante è quello che i team seguono personalmente, anche il follow-up dei pazienti guariti, il loro decorso per capirsi dopo le dimissioni. Da marzo l'USCA ha seguito circa 5.000 pazienti, 2.000 in provincia di Arezzo, fornendo 120.000 prestazioni e 53.000 solo nel territorio aretino.